Nel processo per l'omicidio di Cristian Micatrote è comparso oggi in tribunale Giuseppe Di Mario, prossima udienza nel Palazzo di Giustizia il 28 aprile. Al momento le verifiche tecniche non hanno portato a criticità rilevabili sugli edifici pubblici e privati in regione dopo il terremoto della notte scorsa. Poche assunzioni nel mezzogiorno d'Italia nei centri per l'impiego, situazioni simili anche in Molise, ritardi e immobilismi inaccettabili. La famiglia ha ancora la vera istituzione al fianco delle donne in cerca di occupazione. Lo Stato non aiuta fino in fondo donne e mamme nel mondo del lavoro. Ben ritrovati dalla redazione giornalistica di TLT. In aula di tribunale oggi a Campobasso è comparso Giuseppe Di Mario, ritenuto uno dei testimoni più importanti nell'ambito del processo a carico di Gianni De Vivo, il 36enne accusato di omicidio volontario aggravato di Cristian Micatrotta deceduto nella notte di Natale del 2021 a causa di una coltellata al collo nelle vicinanze del terminal autobus del capoluogo Di Mario. Ha risposto alle domande del pubblico ministero Elisa Sabusco. La prossima udienza nel Palazzo di Giustizia di Viale Elena ci sarà il 28 aprile. Parliamo ancora una volta adesso del recente terremoto in regione. Movimenti e associazioni evidenziano la necessità di misure certe per interventi sugli edifici. Vediamo. Un terremoto di magnitudo 4.6 con epicentro a Montagano e tanta paura in Molise, un evento sismico avvertito anche in regioni limitrofe e che ha portato centinaia di persone. Ieri notte, intorno alla mezzanotte, a scendere in strada. Il sisma non è nuovo sul territorio e purtroppo riporta alla mente fatti tragici come quelli di San Giuliano di Puglia del 2002 in cui persero la vita 27 bambini e la loro insegnante per il crollo di una scuola a seguito di una scossa. Ebbene, da allora particolare attenzione viene prestata, in particolare la solidità delle strutture scolastiche. Così è accaduto ieri, quando i sindaci di numerosi paesi hanno chiuso gli istituti per le verifiche del caso. Un dovere è quello delle amministrazioni locali, ha commentato il presidente di Conf Professioni Molise Riccardo Ricciardi, controllare scuole, luoghi istituzionali, chiese, realtà vissute quotidianamente dalla cittadinanza. Tuttavia le ispezioni dovrebbero esserci periodicamente, considerato che in regione, come in gran parte dell'Italia, persistono strutture centenarie, ormai vetuste, stabili che in alcuni casi andrebbero addirittura abbattuti. Molto spesso, però, ha aggiunto il vertice della Confederazione, mancano le risorse economiche per farlo. Per tale motivo diventa fondamentale da parte del Governo nazionale in primis e poi degli altri enti pubblici prevedere delle misure che supportino interventi edilizi antisismici. Ormai sulla via del tramonto e bonus legati al 110 andrebbero concepite diverse altre ipotesi di sostegno per continuare a percorrere la strada della rinascita di abitazioni, palazzi, scuole. Tutto con una cabina di regia che monitori e controlli effettivamente e costantemente l'andamento dei lavori, scansando la possibilità di raggiri. E come dicevamo, in Molise sono in corso gli accertamenti tecnici al fine di verificare eventuali danni visibili agli edifici pubblici, prima fra tutti gli istituti scolastici. Sembra ci siano danni lievi solo nei centri storici dei paesi che gravitano attorno all'epicentro delle scosse telluriche. Scuole riaperte quindi questa mattina a Montagano, Ripalimosani, Campobasso, soprattutto mentre resteranno chiuse fino a domani in via precauzionale gli istituti di Sant'Elia a Pianisi. Nessuna criticità neanche agli edifici scolastici di Isernia e Provincia. Torniamo alla cronaca. La Guardia di Finanza spezza un vasto giro di droga pescara nelle località limitrofe. In carcere finisce un giovane pregiudicato del posto. Un giovane pescarese è stato sorpreso dagli uomini della finanza e tratto in arresto per il possesso di oltre un chilo di hashish diviso in 12 panetti nascosti nella legna all'interno del garage di casa. L'operazione, denominata dai militari Drug Market, è stata portata avanti nell'Interland del capoluogo abruzzese, finalizzata al contrasto del traffico degli stupefacenti. Detenzione illecita di droga ai fini di spaccio, il reato contestato dai finanzieri a carico del 24enne pregiudicato. Le manette ai polsi sono scattate nella vicina località di Cepagatti, in prossimità dell'abitazione di un altro spacciatore, a sua volta deferito all'autorità giudiziaria poche settimane prima per traffico di cocaina ed hashish. La droga scoperta avrebbe consentito il confezionamento di migliaia di dosi per un valore commerciale vicino ai 15.000 euro. Al momento il giovane pusher si trova in cella in attesa dell'interrogatorio da parte dei magistrati. Nell'ambito della collaborazione con l'arma dei carabinieri, il questore di Campobasso Vito Montaruni è intervenuto oggi alla Scuola Lievi Carabinieri di Via Colle delle Api per tenere una conferenza sulle tematiche connesse alle funzioni dell'autorità di pubblica sicurezza, con particolare riguardo all'emissione dei provvedimenti di polizia amministrativa in materia di misure di prevenzione. Il Movimento 5 Stelle entra in merito alle inefficienze dei centri per l'impiego e alle responsabilità del centro-destra, che non è riuscita a realizzare alcun potenziamento di tali strutture. La gestione operativa dei centri per l'impiego in Italia è affidata alle regioni e dunque la loro, quasi ovunque, in efficienza e dichiara responsabilità diretta dei vertici regionali. Questa è la prima considerazione che fanno i consiglieri del gruppo del Movimento 5 Stelle, che sottolineano il fatto che delle 20 regioni italiane i tre quarti sono governati dalle coalizioni di centro-destra, che poco e niente hanno fatto per rendere efficienti ed efficaci quelli che possono e devono essere punti significativi di rilancio lavorativo. Affermano che nel 2019, insieme al reddito di cittadinanza, fu varato un piano straordinario per potenziare i centri. Attraverso una stima in tre anni avrebbero dovuto portare, a fronte di un finanziamento di un miliardo di euro, all'assunzione a tempo indeterminato di 11.600 nuovi operatori. Le regioni guidate dal centro-destra avrebbero dovuto inserire nelle strutture 6.116 unità di personale entro il 2021. È successo, invece, che al 31 dicembre del 2022, secondo i dati ministeriali, gli assunti sono stati 1.735, il 28%. Significativo inoltre il fatto che in alcune regioni, come Basilicata, Calabria, Sicilia e, naturalmente, Bolise, alla voce Assunzioni, hanno scritto zero. Dunque, siamo a ritardi in mani, che certificano un enorme immobilismo e la volontà a non mettere a posto questi luoghi dove si dovrebbero produrre le occasioni di lavoro, che, tradotto in parole semplici, significa muovere al rilancio sostanziale delle attività sui territori e, perciò, nuove economie e nuovi sviluppi. A Termoli sono stati consegnati i lavori per la realizzazione della ciclovia adriatica che prevedono la costruzione di una nuova pista ciclabile in diversi punti dei comuni costieri molissani sul mare. Le opere del nuovo cantiere sono state avviate per un importo complessivo di 5 milioni di euro. Incontrata Santa Lucia, alla periferia di Campobasso a ridosso delle coste di Oratino, il manto stradale sarebbe stato, in alcuni tratti, riasfaltato non completamente. I residenti sollecitano quindi l'amministrazione a Palazzo San Giorgio nel garantire la conclusione dei lavori nel più breve tempo possibile per la sicurezza degli automobilisti senza lasciare la contrada nell'incuria. Il ruolo della donna nel mondo del lavoro per migliorare la società e la salute dei bambini. Andiamo a seguire questa intervista. Ottoressa, quando parliamo di parità di genere in Italia, quanto siamo lontani e cosa potrebbero fare le polisi attuali per migliorare questo divario? Sempre rispetto a questo report che viene redatto annualmente e che invito molti a guardare anche nelle scuole e informarsi da questo punto di vista, l'Italia a livello globale ha raggiunto un indice di uguaglianza dei genere intorno al 70%, ma è carente particolarmente nella partecipazione femminile al mercato del lavoro dove si trova soltanto al 60%. Politiche di supporto per le donne sono la fornitura di servizi di asilo unido perché ovviamente se una donna si trova a dover prendersi cura di un bambino diventa difficile rientrare a lavoro se non c'è qualcuno che può sostituirla e molto spesso in Italia si conta sulla famiglia. Diciamo la famiglia diventa un'istituzione ma in realtà le istituzioni ci sono e dovrebbero in qualche modo sopperire a queste esigenze. E un altro tipo di politica molto importante è l'impegno concreto da parte dei datori di lavoro quando reclutano delle nuove forze di lavoro quando aprono una posizione di avere all'interno del loro pool di candidati da esaminare un numero pari di uomini e donne in modo tale che ci sia opportunità di essere considerati per entrambi. Molto spesso questo non avviene soprattutto per posizioni in ambito STEM dove chiaramente le donne ancora mancano. Ultimamente in tema di aiuti di Stato l'Italia ma l'Europa in particolare sta contando molto sui fondi del PNRR per la misura 4.0 riguardante la scuola. Secondo lei potrebbe creare un ponte tra l'occupazione femminile e comunque la crescita dei ragazzi? Se si riferisce in particolar modo a incentivare le donne ad essere coinvolte in discipline STEM è importante che ci siano politiche ma è importante anche capire quali sono i motivi per cui le ragazze non studiano matematica quanto i ragazzi e non si iscrivono a facoltà come Ingegneria o Information Technology che poi garantiscono un'occupazione e una carriera di tutto rispetto. Sono tanti i motivi, intanto mancano i modelli cioè le ragazze non vedono altre ragazze aver fatto un percorso simile per cui non si sentono ispirate e quindi sicuramente politiche di questo tipo o iniziative di questo tipo in cui modelli di ruolo donne o ragazze che hanno effettuato scelte non conformi al genere a cui appartengono per ispirare le ragazze potrebbero essere importanti. insegnanti, che ci siano insegnanti sia uomini e donne in tutte le discipline in modo tale che ognuno possa riconoscersi nella figura dell'insegnante e venga ispirato da questo tipo di figura. A Tufara è stato riaperto al pubblico l'ufficio postale dopo le opere di ristrutturazione quella di Tufara è la quarta riapertura in regione dopo gli uffici postali di Macchia Godena Macchia, Valfortore e San Massimo attualmente in Molise sono in corsi i lavori di ammodernamento in altre cinque sedi. Da parte dei cittadini è doveroso attuare una corretta raccolta differenziata il rifiuto può trasformarsi in risorsa dando vita ad una economia circolare. Esistono comuni che in Molise come in altre regioni d'Italia della raccolta differenziata ne hanno fatto un punto di forza. Non senza sacrifici tante amministrazioni hanno colto i vantaggi di una corretta gestione dei rifiuti affinché questi ultimi possano diventare una risorsa. E le esperienze in questa direzione sono diverse criticità ed opportunità di un sistema di raccolta sono state raccontate, analizzate e valutate in occasione del convegno organizzato all'ARPA Molise a Campobasso. Da rifiuto a risorsa la gestione dei rifiuti urbani esperienze a confronto il titolo dell'incontro a cui ha preso parte anche il professore Fausto Cavallaro dell'Università degli Studi del Molise che tra tutto si è soffermato sul ruolo della raccolta differenziata nella transizione ecologica parlando quindi di spese per cittadini e di imprese e quindi di economia circolare. Sostanzialmente alla base di un progetto di raccolta differenziata si può attuare una reale economia circolare. L'economia circolare, il presupposto dell'economia circolare è quello di riutilizzo di residui che derivano da una corretta gestione dei rifiuti e quindi dalle diverse filiere di rifiuto che viene recuperato. Dunque l'orientamento della Commissione europea ormai è verso un modello di economia circolare e quindi verso un modello di economia in cui una frazione importante dei rifiuti viene valorizzata e rientrano in cicli di produzione per essere nuovi prodotti per essere recuperata e riutilizzata nelle varie forme. Alcuni territori tuttavia sono in ritardo rispetto alla raccolta differenziata andrebbero per questo applicate delle politiche mirate. È pur vero che vi sono delle regioni ancora un po' indietro in ritardo in qualche modo bisogna immaginare dei meccanismi che possano incentivare questo tipo di processo virtuoso. Me ne viene uno in mente ma potrebbero elencare tanti quello di creare un incentivo un sussidio affinché si possa aumentare questa quota. Ad esempio ci sono varie città che hanno sperimentato uno sconto nella parte variabile della Tari quindi la quota variabile della Tari a fronte di un deposito di restituzione appunto di quote di raccolta di rifiuti che vengono selezionati nelle varie abitazioni. Per cui faccio un esempio in alcune città ripeto viene dato sono stati diciamo elargiti dai comuni sconti anche diciamo consistenti pari al 30% sulla quota variabile a fronte di una produzione annua di un certo numero di chili sono 50 chili a persona poi insomma poi dipende chiaramente dalle diverse situazioni poi vengono modulate rispetto anche alle esigenze del Tari Oggi a Palazzo Colagrosso di Boiano un incontro culturale sul tema medicina e società nel Settecento da un inedito manoscritto boianese la trattazione considera principalmente le malattie delle donne e dei bambini nel mondo occidentale e la mortalità della popolazione di quei tempi in vista della Pasqua un uovo gigante realizzato interamente ad uncinetto è stato sistemato in piazza municipio a Colli al Volturno è alto circa 3 metri ed è di colore giallo è circondato da animaletti e fiori e si trova nella piazza di un paese della valle del Volturno parliamo dell'uovo delle uncinettine di Colli a Volturno dopo l'albero di Natale non poteva mancare l'uovo di Pasqua quindi ci siamo messi all'opera e con tanto sacrificio con tanto lavoro siamo riusciti a fare questo capolavoro per noi poi agli altri il giudizio successivo animaletti tulipani per fare per addobbare tipo un giardino quanto tempo avete impiegato? beh quanto tempo abbiamo impiegato? più o meno da gennaio sì due o tre mesi un paio di mesi un gruppo di 25 donne legate dalla stessa passione quella dei lavori eseguiti all'uncinetto è nato per caso così un'idea proprio dall'uovo di Pasqua perché vedendo una foto dell'uovo di Pasqua su Facebook mi venne in mente scrissi chi mi dà una mano a realizzarlo e da lì tutte hanno hanno dato la loro adesione abbiamo fatto il lavoro per Corpus Domini il primo grandissimo lavoro poi abbiamo fatto un quadro di Colli abbiamo fatto le mattonelle per Viva Vittoria a Natale l'albero di Natale adesso ci prepariamo per il Corpus Domini di nuovo così chiudiamo l'anno poi non so le idee poi ci vengono anche all'improvviso domenica 2 aprile le uncinettine vi aspettano in piazza municipio con un mercatino pasquale il sindaco di Montenero di Bisaccia Simona Contucci ha ricevuto la visita di una delegazione di docenti nell'ambito dei programmi Erasmus 2021-2023 che vede la partecipazione di Svezia Spagna Romania Turchia e naturalmente Italia grazie a questi progetti gli studenti hanno l'opportunità di studiare all'estero imparare nuove lingue conoscere altre culture e ampliare i propri orizzonti accademici e professionali il principe Alberto di Monaco ha raccolto l'invito del presidente della federazione internazionale donatori di sangue l'isernino Gianfranco Massaro ed ha inviato un video per sensibilizzare le persone alla donazione Donare il sangue è un atto di generosità nei confronti dell'altro e di noi stessi sono queste alcune delle parole che il principe Alberto di Monaco ha affidato ad un video attraverso il quale promuove la donazione un atto che lo distingue per il valore di solidarietà espresso più volte e ogni volta le circostanze lo richiedessero il video è di fatto la risposta concreta ad un invito rivolto al Donarca Monegasco dall'isernino Gianfranco Massaro che è il presidente della federazione internazionale delle organizzazioni di donatori di sangue e del centro di servizio per il volontariato del Molise una risposta positiva che conferma la continuazione dell'impegno alla solidarietà della famiglia Grimaldi e soprattutto del padre Ranieri III di Monaco che nel 1993 istituì il riconoscimento di una medaglia al merito per la donazione del sangue nell'intervento il principe ha voluto sottolineare quello che considera un atto di salvaguardia della salute affermando che finché esiste un donatore esiste l'opportunità di vivere due nuove date della Kermes palcoscenici il Molise di Scena cartellone curato da Regione Fondazione Molise Cultura un viaggio tra laude canzoni spirituali canti della passione accompagnato dagli strumenti della tradizione del centro Italia quello che porterà in scena Ambrogio Sparagna insieme ai solisti dell'orchestra popolare dell'auditorium Parco della Musica di Roma appuntamento in serata al teatro risorgimento a Larino e domani alle ore 21 al teatro di Casa Calenda cambiamo decisamente argomento l'endometriosi la patologia invalidante che pesa sulla vita di milioni di donne nel mondo al centro della nostra trasmissione raccontiamoci in onda questa sera alle 21 con replica domani pomeriggio alle 15 e 30 l'impegno di un gruppo di donne di parlare di endometriosi a campo basso scegliendo di farlo attraverso l'arte e la cultura mettendo a disposizione di tutti le proprie esigenze e i problemi immensi causati da una patologia invalidante che grava su milioni di donne nel mondo una mostra il mio corpo è un campo minato le riflessioni collettive le opere degli artisti la denuncia sociale e la richiesta fortemente significativa di saperne di più di conoscere e soprattutto capire nell'occasione questa sera alle 21 la nostra emittente propone nel corso del programma raccontiamoci una intervista ad Isabella Benigno ideatrice della mostra di endometriosi ne sono affette solo in Italia 3 milioni di persone con utero e in tutto il mondo siamo 150 milioni quindi sono numeri importanti significa una donna su 10 e spesso non solo la diagnosi è molto tardiva si va dai 7 agli 11 anni nel mio caso 15 ma si scopre perché in alcune persone per fortuna è asintomatica ma si scopre per l'infertilità che questa patologia porta non in tutti i casi endometriosi significa infertilità però una buona percentuale un 45% di donne affette da endometriosi purtroppo sono anche sterili di fatto o comunque hanno parecchie difficoltà nel concepire endometriosi è un termine che è vero è sconosciuto ultimamente negli ultimi due anni forse se ne sta parlando tanto grazie alle associazioni grazie anche a personaggi popolari che l'hanno portata in auge che diciamo più note al pubblico mainstream e nel nostro piccolo visto che in Molise soprattutto è ancora più sconosciuta io e Lucrezia Cicchese ci stiamo impegnando come persone singole quantomeno per ora stiamo iniziando questo percorso di consapevolezza e dopo questo contributo filmato siamo adesso al meteo la Famila Schio approda alle semifinali di Coppa Italia della palacanestro femminile di A1 che si sta disputando all'arena di Contrada Selvapiana a Campobasso velocità agonismo e forti emozioni nella prima gara di finale delle Final 8 87 a 78 il finale per le Velete sulle siciliane del Ragusa e nella seconda gara della giornata la Dinamo Sassari raggiunge Schio in semifinale superando in rimonta la Geas Sesto San Giovanni 53 a 48 per le Sarde alla prima esperienza nella Kermes Tricolore un ulteriore passo in avanti verso un piazzamento tra le migliori quattro della palacanestro nazionale passiamo adesso al calcio sabato dopo domani l'anticipo clou del torneo di eccellenza la capolista a Campobasso sfidera il venafro sul terreno del Marchese del Prete trasferta invece sulla carta più abbordabile per l'Isernia Guglionesi Davide Fruscella si aspettava soltanto questa partita l'abbiamo vinta con Grinda con Cattiveria si è tornato anche in campo e è andato tutto secondo i piani era una partita molto difficile molto combattuta però l'importante era portare a casa i tre punti e l'abbiamo fatto con grande grinta e sofferenza però ce l'abbiamo fatto ecco il parziale forse poteva essere anche un po' più rotondo soprattutto per quello che abbiamo mostrato in questo secondo tempo sì purtroppo ci siamo mangiati un po' di gol il mio e qualcun altro però l'ho detto l'importante era portare a casa tre punti ora già pensiamo a sabato prossimo che ci aspetta un'altra battaglia a Venafro sei stato fuori diversi mesi nei momenti un po' diciamo difficili però sei rientrato sei pronto a dare il tuo contributo in questa fase finale in questo rush finale sì purtroppo ho avuto uno stiramento e poi una ricaduta però devo ringraziare comunque Michele Ricciardi Michael Alessio Gianluca un po' tutti che comunque mi hanno rimesso in sesto ci avviamo in chiusura di telegiornale sabato 1 e domenica 2 aprile sul cartodromo di Santa Maria si svolgerà la seconda prova della Coppa Italia Karting zona 4 che comprende oltre il Molise le regioni Abruzzo e Lazio decine di piloti sono iscritti per l'appuntamento sportivo motoristico sulla pista in provincia di Isernia sabato le prove libere domenica le gare dal mattino nel pomeriggio sono fissate le premiazioni e con questa notizia è veramente tutto grazie per essere rimasti con noi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti